Musica Quanto pesa un meridiano? Quanto costa un cane afgano? Quanto impiega un aeroplano? Per andare a Bogotà? Ma chissà chi lo sa dove è nato Alibaba? Ma chissà chi lo sa dove vive Mustafa? Ma chissà chi lo sa? 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 Quanto è lungo un fiume indiano? Ma chissà chi lo sa? Quanto è nero un africano? Ma chissà chi lo sa? Perché piange il caimano? Ma chissà chi lo sa? Sulla luna chi ci sta? La 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 chi lo sa? Ma chissà chi lo sa dove è nato Alibaba? ma chissà chi lo sa, dove vive Mustafa, ma chissà chi lo sa, 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 chissà chi lo sa, chissà chi lo sa, chissà chi lo sa, quante foglie ha il tulipano ma chissà chi lo sa quante pagine ha il corano ma chissà chi lo sa chi fu l'ultimo moicano ma chissà chi lo sa qual è il treno che vavrà ma chissà chi lo sa dove è nato alibaba ma chissà chi lo sa dove vive mustafa ma chissà chi lo sa ma chissà chi lo sa ma chissà chi lo sa chi lo sa